Questo progetto è nato a gennaio per dare spazio a nuovi artisti creativi e far sì che abbiano un pubblico davanti al quale esibirsi come quello che abbiamo oggi e per voi questa sera abbiamo la tessicore danza e 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